Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti qui da vostro Bazzilatto Bazzi Allora, dobbiamo aspettare la prossima con Torino per vedere di giocare il nostro amato AC Milan Allora però, tanto, come ho detto anche ieri, in tanti hanno preso il pretesto per andare a attaccare un certo tipo di tifoseria Perché ormai è diventato il loro cavallo di battaglia, evidentemente Non riescono, proprio non li va giù per una vittoria Hanno rialzato la cresta, si sono rifatti dell'episodio di Kedler Si sono rifatti e subito hanno iniziato, siamo contenti per quelli falsi milanisti Quelli che non hanno il vero milanismo nelle vene e quant'altro Che poi ribadiscono, ripetono anche nelle live, nei video E poi comunque ricordatevi di sostenerli con abbonamenti e iscrizioni, like e donazioni Ricordatevi perché non è un lavoro, è un lavoro ma non è un lavoro, ok? Mi raccomando Allora, va bene, abbiamo sofferto È inutile che dicono sì, buon milan Però abbiamo anche concesso parecchio, secondo il mio punto di vista Soprattutto quello che sono andato a rivedere Sono contento per Krunic Reiners 100 su 100 proprio su passaggi completati Sono contentissimo perché ha anche eleganza, cattiveria agonistica Atletismo nelle gambe e va bene Sono contento perché è un signor giocatore, mette ordine Ma quello che ha stupito è anche Krunic Che nonostante tutto viene ancora criticato Ecco, quando viene messo nelle condizioni come lunedì sera contro Bologna Lasciando stare dei frangenti che ora con la regia vi mostrerò Pronta regia che ora mettiamo e mandiamo in onda Comunque il solo fa Come filtro, come interditore di centrocampo Ragazzi, Krunic è uno dei migliori che c'è in serie A Non potete, ovvio, che non potete pretendere Che faccia giocate alla Iniesta Alla Pirlo Alla che ne so, prendetene uno che vi pare Allora, per pronti, però vi voglio far vedere una cosa Perché noi poi andremo a soffrire molto questa stagione Molto e un po' come sarà la fotocopia Anzi, forse soffriremo ancora di più Perché regia, tanto venga Venga, metta, inserisca, grazie In videoimpressione Perché finché ci regge la fase atletica Perché ora non mi dite le scuse Siamo agosto e tutto da aggiustare Guardate qua, settimo secondo Settimo secondo E questa cosa qui si è ripetuta spesso durante la partita Come si è ripetuta anche lo scorso campionato Però è uno scorso campionato Vi è anche Benasera, Vivi Tonari Quest'anno hai giocatori molto più offensivi Anche Renders è molto un giocatore Più che si va, è propenso ad andare in avanti E dietro praticamente Calabria e Teo Sono costretti a ripiegare Però all'inizio rimane sempre questo buco Questa voragine in mezzo al campo Dove gli avversari possono ripartire e prendere campo E prenderti in superiorità numerica Loro sono costretti a ripiegare Ad accentrarsi Però involontariamente Ti lasciano le corsie libere A meno che non hai giocatori Che ti rientrano a dare supporto dietro Leau l'ha fatto qualche Poche volte l'altra sera Pulisic Ha dato una bella mano Però ecco Siccome può capitare che non hai gamba E che ci sono dei momenti di calo fisico Durante la stagione Questi errori qui Non dovranno succedere Perché come mai la difesa Ha sofferto Da poca sicurezza Poco tranquilla di suo Però vedete che quando è così La difesa va a soffrire di più Perché? Perché viene puntata In velocità E quando la difesa Viene puntata in quel modo Va sempre in difficoltà Tipo mette chi ti pare in difesa Se il centrocampo Lascia scoperta la retroguardia È finita Allora Mr. Pioli Mr. Capoccia L'head super head coach Qui deve porre un rimedio O giochiamo con altro modulo O giochiamo con altri giocatori E in piano a mano Durante la partita Vengono un po' Anche con le sostituzioni Cambiamo modulo Ma già presentarsi in campo così Scoperti E non mi dite Ripeto Che non è la condizione atletica Non è ancora finita la preparazione Prima di campionato No Queste sono cose tattiche Guardate un po' voi E fatevi un'idea Comunque c'è tempo per migliorarla Non sto dicendo niente Però va migliorata Però va migliorata Cioè You understand People Italian people Rosso neri people You understand Ok Comunque L'idea di gioco Speriamo che arrivi E tutto il resto I tre punti ci volevano Ragazzi Un saluto Arrivederci Ragazzi Qui si va al lavoro Like il campanellino Scrivetemi a questo cazzo di canale Se no andate da quelli che Nelle cui vene Scorre il vero Sangue del milanismo Mamma mia Quando mi fanno eccitare Quando fanno così Mi fanno impazzire Ciao ragazzi